bentornati al nostro appuntamento wine design in diretta dall'istituto oggi presentiamo una bottiglia sempre umbra abbiamo il pantagrero di tabarrini annata 2015 e io inizierei col dire qualche parolina su sull'azienda fare una degustazione veloce e poi dedicarci alla particolarità di questa di questa etichetta di questa bottiglia e dell'azienda in generale allora va gliene a parlarci un po di questo vino allora tabarrini si trova a montefalco da quattro generazioni ma è con giampaolo tabarrini che la realtà vitivinicola tabarrini a montefalco comincia a concretizzarsi con dei vini che hanno comunque un'importanza sia in italia sia sia all'estero di 22 ettari 11 sono vitati classico sagrantino classico trebbiano e poi vedremo questo grero che parlerò successivamente alla tua descrizione dell'etichetta nel frattempo io farei una degustazione per cercare di capire la differenza di questo vitigno sconosciuto ma autoctono dell'umbria e dire qualche parola e e dopo entrare un po più nel nel tecnico ok vai prima cosa io volevo chiederti curiosissima perché comunque non siamo tutti quanti con la conoscenza delle etichette di tabarrini ma effettivamente non siamo mai entrati nel nello specifico di questa particolarità allora allora che cosa posso dire allora le etichette di questo pianta grello di questo vino sono rappresentate da fumetti è un fumetto che racconta sia un po del vino che del produttore e lo descrivono principalmente come il vino è come un diario allora intanto sono rappresentate in modo ironico e è rappresentato giampaolo tabarrini che si dà la fuga con una bottiglia di pianta grero perché si dà la fuga perché ci sono pochissime bottiglie c'è un numero molto limitato di questo vino di conseguenza è molto ricercato allora ogni la cosa particolare di questo vino che ogni annata ogni anno viene cambiata etichetta e cosa possiamo dire intanto rappresentata è un fumetto con una scena e lo stile è molto cartonesco ed è corredata è corredata dal testo non ha il un balloon cioè la nuvolta intorno però questo è insomma dici tu invece io volevo anche farti un'altra domanda che probabilmente rispecchia anche la personalità dei vini di tabarrini no se noi andiamo a vedere in etichetta vini rappresentato giampaolo no è esattamente la cosa carina da vedere non è un personaggio che ha costruito il suo tra virgolette impero quello che sia su il volere essere qualcuno però ha dato una personalizzazione al suo prodotto infatti lo vedete con l'infradito secondo te insomma questa secondo me è una rappresentazione iconica del vino sia del vino che della sua personalità appunto di giampaolo tabarrini e sì perché scusami se ti interrompo ma ho avuto modo di incontrarlo giampaolo in visita l'anno scorso con l'ice e lo ammetto così come lo ammettono tutti è un personaggio iconico un personaggio creativo un personaggio dinamico e fa risaltare queste doti di ombre le doti dei vitigni del carattere della terra anche nei suoi vini e io direi così di primo acchitto che questo vino che ha un colore fantastico un colore pieno è un porpora forse con qualche riflesso ma bello pochissima un po' rubino cupo sembrerebbe no? sì molto ma molto bello e ha la caratteristica di avere tanto fruttato tanto floreale quindi è uno di quei vini in cui è presente queste caratteristiche infatti non è molto tannico anzi ha quasi un'assenza di tannino però questo permette a noi degustatori e a noi insomma bevitori generali di dare maggior importanza al fruttato floreale infatti abbiamo tanta frutta fresca potremmo dire una frutta succosa come un'arancia sanguinella c'è un lampone c'è una prugna c'è ancora fragoline di bosco è veramente veramente interessante fresco al naso questa freschezza la si vede anche al gusto olfattivo ed è una caratteristica che permette a questo vino tanta longevità infatti ci raccontava ma Gianpaolo che va a tanta potenzialità di invecchiamento ovviamente il legno in barrique e se mi permetti di dire qualche altra parola in merito assolutamente perché il grero, pianta grero, il nome del vino del grero è questo vitigno autoctono umbro sconosciuto che Gianpaolo è riuscito a recuperare diciamo così nel 2007 quando l'ha scoperto attraverso in una pianta diciamo in un giardino di una signora lì vicino nelle sue cantine ha deciso di farlo analizzare nei laboratori e ha scoperto che era questo vitigno autoctono umbro nelle vicinanze di Todi che aveva questo potenziale di acidità anche se non sapeva che vino poteva uscire fuori da questo da questo grero e ha anche saputo di si trattasse di una nuova tardiva, di vendemmia tardiva lo pianta a mezzo età nel 2007 e abbiamo il primo vino nel 2013 poi come tu prima hai detto ci sono state delle annate che sono saltate come nel 2016 appunto ci hanno fatto anche un'etichetta molto ironica su questo tema sì, è vero, cioè c'è un'etichetta gialla dove c'è l'enologo, se non erro, l'enologo e Gianpaolo tristi per l'assenza di vendemmia del 2016 anziché il 2015 abbiamo un'annata bellissima infatti abbiamo un 20% di crescita della produzione Umbra insomma questo è un vino veramente particolarissimo tu l'hai assaggiato prima, hai trovato tanta freschezza tanta possibilità, potenzialità in questo soprattutto anche il colore assolutamente e a nostro avviso ci andrebbe bene anche un abbinamento con una lenticchia di norcia sempre per rimanere in tema sempre col territorio territorio umbro, assolutamente quindi perché abbiamo portato Tabarrini oggi? perché ci è piaciuta l'idea di avere un Vigneron che portava ancora di più la possibilità di valorizzare il territorio umbro con le sue scoperte e la caratteristica della personalità polivalente di Gianpaolo con le sue fantastiche etichette sì, quello non c'è nulla da dire allora, dimmi un po' i sapori andiamo a vedere le ducestazioni del vino, no? sì, come ti ho detto prima faccio un altro assaggio nel frattempo Manuel ha scritto qualcosa, se leggi ci sono stati tanti dibattiti sull'origine di questo vitigno a lezioni di viticoltura il nostro prof Alberto ci ha detto che è stato lui a trovare la pianta madre di 120 anni beh, insomma, sì, comunque nel bene e nel male è un vitigno che fa parlare questa è la cosa importante cioè parlarne, perché se è un vitigno autoctono e ancora non è possibile trovarlo nei libri non c'è ancora menzionato è importante che venga risonoto soprattutto per la sua freschezza che va a contrastare quello che è la caratteristica del Sagrantino che invece è uno dei, anzi, è il vitigno principe per la potenza tannica che ha quindi è un po' come dire il contrastante del Sagrantino questo grego però molto molto interessante ok so che poi ha vinto appunto il concorso del Sagrantino appunto a Montefalco non mi ricordo quale è l'anno questo non lo sapevo anzi, raccontacelo un pochino no, no cioè, solo ho letto che ha vinto appunto soltanto a questo concorso ma non so altro però io più che altro volevo farti una domanda sì cos'è la vendemmia tardiva? ah, la vendemmia tardiva praticamente è la volontà da parte del Vignerone o comunque a seconda delle caratteristiche ampelografiche del vitigno di lasciare grappoli a maturare quindi a surmaturare sulla vite e questo fa sì che l'acqua evapori e vanno a concentrarsi gli zuccheri o comunque le sostanze estrattive però, nonostante questo e questa è un'altra particolarità di questo vitigno non è mai riuscito ad evolversi e avere un titolo alcolometrico che superi il 13-13.5 infatti questo qui di Piantagrero 2015 ha un 13% di volume come dicevo prima, poi un'altra caratteristica è il numero della bottiglia riportato cosa che non fanno tutti e un pochino vanno a sottolineare l'importanza di questo vino e la rarità insomma io direi che ci siamo ok, perfetto è stata interessante dimmi sì, no no e niente, volevo sempre ringraziarti di di aiutarci a noi comunque gente meno esperta non sono esperta neanche io però l'importante è vero insomma ah, è quello sempre va bene allora